Oggi facciamo un piatto facile, facile e buonissimo, una bella teglia di zucchine, patate e bocconcini di pollo al forno. Per prima cosa prepara gli ingredienti, pella le patate, tagliale a tocchetti e sciacquale sott'acqua fredda. Priva le zucchine delle estremità, tagliale a dadini e poi taglia a bocconcini anche il petto di pollo. Unisci tutto in una ciotola capiente e condisci con olio, un pizzico di sale, un po' di pepe nero e qualche erba aromatica a tuo piacimento. Io ho messo l'origano. Mischia tutto e completa col pangrattato. Se utilizzi il pangrattato fatto in casa, che è più grossolano di quello acquistato, verrà tutto ancora più croccantino. Completa con un altro filo d'olio, vi è in forno e tadan, guarda che bontà! In meno di mezz'ora ecco pronto un piatto unico, succulento, che piace a tutta la famiglia. Vediamo come mi è venuto. Buonissimo!